Buongiorno a tutti voi, buon sabato mattina, benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione. Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, sono le 7.30, siamo in diretta. Un caro saluto anche a tutti coloro che ci seguono nel corso delle repliche durante la mattinata e alle 13.30. È tutto pronto sul nostro touchscreen, i giornali ci sono, ma procediamo con ordine. Guardiamo prima il salto del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 19 marzo, San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Il sole è sorto alle 6.11 e tramonterà alle 18.20. E quindi oggi San Giuseppe, la festa del papà, il 19 marzo, quindi un augurio carissimo a tutti i papà e anche a tutte le bimbe e i bimbi che festeggiano il loro babbo o il loro papà, a seconda di quale regione vi troviate, il nome è sempre quello. Bene, guardiamo le previsioni del tempo e come si sarà lo sviluppo in queste ore. Oggi per sabato, vedete nella cartina della protezione civile delle marche, è alquanto chiara la situazione, sereno o poco più nuvoloso, nessuna precipitazione, le temperature in aumento. Anche per domenica sostanzialmente lo schema è lo stesso, sereno o poco più nuvoloso, un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio per delle velature, ma direi che sostanzialmente come vedete di dascalie molto scarne e nessuna precipitazione, salgono un po' le temperature, anche ieri c'è stato un balzo in avanti delle temperature, una avvisaglia di primavera c'è stata, previsioni per lunedì, inizio della settimana, poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, quindi insomma precipitazioni assenti anche queste. Anche qui le minime sono in aumento e quindi insomma la primavera, il bel tempo, il sole inizia a bussare alle porte del mese di marzo. Guardiamo i giornali, partiamo dal resto del Carlino, l'edizione di Pesaro, fotonotizia per una serie televisiva che va in onda in Germania, girata a Urbino, che conquista subito l'Italian style e le bellezze del nostro paesaggio hanno sbancato nel primo episodio, è diventato il programma più visto, girata la serie nella città ducale, qui vedete i due protagonisti e anche insomma il vigile a cavallo di uno dei simboli dell'Italia, la Vespa. Poi di spalle si parla dell'albergo per le famiglie progettato tutto in casa, che sarà un albergo tutto realizzato in legno, uno dei più alti, e poi però in testa si parla di lavoro, le aziende ripartono ma il lavoro no, quindi l'export tira fuori alcune aziende dalla recessione, però la disoccupazione, quindi sul fronte dell'occupazione e del lavoro non ci sono passi in avanti, e poi si parla anche del vecchio Palace, che cosa se ne farà. Allora andiamo a vedere questo edificio, questa struttura così amata da tutti gli amanti della Palacanestro, dei pesaresi, che cosa diventerà? L'Hangar sarà un auditorium, una corsa contro il tempo per arrivare puntuali al ROF, vedremo se ce la faranno, gara d'appalto avviata, ci sono dieci offerte, però le società sportive sono preoccupate, perché dovranno traslocare in questo periodo di restyling della struttura, ci sono diverse società sportive che si allenano lì, anche la VL e altre società, devono trasferirsi anche ping pong e tiro con l'arco. Qui vedete nel rendering come diventerà più o meno il vecchio Hangar, il palazzetto dello sport che ha visto protagoniste le squadre di basket pesaresi, una delle quali ha conquistato anche in quella formazione, in quello palazzetto, anche lo scudetto. Si parla di ambiente, di mobilità, mobilità green nel resto del calino edizione di Pesaro, ambiente, il comune farà un sondaggio per un futuro piano della mobilità, si spinge sulla bicipolitana, Ricci ci crede tantissimo e vogliamo capire cosa pensano i cittadini, uno stand in piazza per avere una sorta di sondaggio su che cosa i cittadini vogliono fare in questo senso, stand in piazza, briglia, illustriamo come muoversi in città. Il teorema di Ricci è molto semplice, se aumentano il numero delle persone che usano la bicicletta diminuisce di conseguenza anche il traffico automobilistico e anche lo smog, direi alquanto chiaro. Poi c'è anche cronaca, c'è anche cronaca, un netturbino ubriaco sbatte contro un'auto e la danneggia valori di alcol paurosi nel sangue, sei volte il consentito, è un netturbino di una ditta che ha appaltato per il comune la polizia del suolo. Lui però non ammette, lo identificano, lo riaccompagnano a casa e il mezzo della ditta è stato ritirato. Andiamo nelle pagine di Fano, del resto del Carlino, dove si parla di sanità, c'è ancora tanta sanità nelle pagine dei quotidiani, ospedale, una mozione grillina dei 5 Stelle, imbarazza un po' il PD perché nel prossimo consiglio comunale il Movimento 5 Stelle chiede la revoca della delibera regionale su Fosso Signore, quindi si schiera apertamente con il primo cittadino e questo mette un po' in imbarazzo il PD perché il dilemma qual è? Stare con Seri e con i grillini oppure votare no e schierarsi con Ceriscioli e quindi vedremo quale sarà nella prossima seduta del comune questa vicenda. La riapro la pagina di Fano del resto del Carlino perché si parla di un'area che deve subire una trasformazione sicuramente che è in stallo, in stand by da tantissimo tempo, parliamo dell'ex zurcherificio, è stato presentato un progetto, lunedì le associazioni provano a far quadrare il cerchio su questa cosa. L'altra pagina che vi propongo del resto del Carlino parla di un museo, un museo importante per la nostra città ma la sovrintendenza avverte perché c'è scarsa sicurezza e così rischia di chiudere. Siamo naturalmente al museo archeologico di Fano a lanciare l'allarme e la sovrintendenza delle Marche Gloria Cerquetti che ha scritto al comune e Marchegiani dice sì abbiamo ricevuto questa missiva, la prossima settimana fisseremo un incontro con la sovrintendenza per mettere a punto una strategia che possa mettere in sicurezza questo asset così importante per la città di Fano. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui si parla di riprese di lavoro, quello che era citato nella testa di pagina del resto del Carlino e a parlare è Confindustria che dice quali sono le opportunità che possiamo sfruttare per aumentare questa occupazione banda larga, rapporto scuola lavoro e rapporti sindacali aperti, la ripresa c'è ma non basta, questa è la loro ricetta come vorrebbero appunto portare avanti questo discorso e poi si parla anche dell'evento che si terrà all'astronave, all'Adriatico Arena dal 3 aprile a Pesor fa tappa l'Italia della Coppa del Mondo con 46 nazioni è un pubblico numeroso, è un'edizione dei record per 46 nazioni e sono sicuramente un numero da record la pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche qui si parla di sanità, verifica in giunta, la sinistra sta con Seri questa è la versione del Corriere Adriatico, Mascarin dice forse sei ore non potrà mai essere il sito dell'ospedale unico ma pensiamo anche al presente, si lavora a una posizione comune con il PD per una risposta forte, unita per l'appello di Fano caso mai questo fosse ignorato e una pagina questa del Corriere Adriatico, tutta dedicata alla sanità e al tema ospedale perché poi l'articolo subito dopo sotto parla delle considerazioni dei 5 Stelle i consiglieri regionali Pergolesi e Fabri hanno chiesto di acquisire il progetto e dicono appunto i pentastellati un ecomostro sanitario senza alcuna condivisione quello presentato nel rendering del progetto unico per l'ospedale Affosso sei ore e ancora la lista civica Noi Città, contraria al project financing, il sito in viso a tutti i cittadini la regione dice manca la capacità a parlare è Marco Savelli e dice c'è il rischio che si faccia un investimento senza tenere conto della spesa finale e l'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico punta una vicenda che anche questa è in stallo da diverso tempo parla del teatro romano e dell'area edificabile dell'area che dovrebbe essere portata all'area archeologica a piena vista qui vedete nella foto lo scavo che mostra parzialmente quello che è la cavea e poi c'è anche tutto il palco, il proscenio, insomma è metà e metà questo importante monumento dovrebbe essere portato alla luce a pieno per far sì che sia visibile a tutti e sia anche un'attrattiva turistica ma c'è una proprietà privata sopra e quindi c'è questo stallo non si riesce a smuovere la situazione e allora una nuova proposta, una permuta in cambio del teatro romano per la proprietà che ha l'area in proprietà e si tenta di dare un'area edificabile, appetibile, di pari valore per sbloccare la situazione e si parla dell'area di via del lavoro ecco una permuta, il comune attende una risposta entro il mese dalla società proprietaria perché è stato negato il permesso di costruire su un'area archeologica così importante ma giustamente ci sono delle questioni che vanno al di là dell'interesse pubblico ma la proprietà dice noi abbiamo un bene, abbiamo un costo e quindi si cerca di permutare e adesso si valuteranno anche le controproposte della proprietà e il controvalore dell'area che deve essere valutata andiamo nella pagina di Senigallia per quanto riguarda il Corriere Adriatico carabinieri vanno al campus e nelle aree militari all'intervento delle scuole nell'intervanzo, blizze di cani antridorga e iago fiuta della marijuana trovate delle bustine abbandonate per terra da qualche studente impaurito dei controlli proprio nei giorni scorsi il capitano Cleto Bucci aveva tentato, aveva tenuto una lezione sulla legalità alla Fagnani appunto alla scuola e poi si continua a tenere alta l'attenzione sui lavori sulla piazza che dicono sarà pronta a fine maggio ma non si toccano gli stemmi papali quindi insomma il sindaco Mangialardi respinge la petizione dell'esposto comitato e dice appunto è tardi e quindi nulla da fare ultima testata il messaggero la pagina che riguarda Pesaro appunto in testa di pagina si parla di lavoro imprese fuori dalla recessione ma insomma il presidente Tonti dice sarà però disomogenea perché appunto bene l'export ma il lavoro manca come occupazione traina l'export le marche si cerca di recuperare il settore manifatturiero fotonotizia qui per il Nautilus la nuova struttura che sorgerà il Nautilus delle Meraviglie e poi cronaca a Cagli i carabinieri arrestano un marocchino che ha ferito un connazionale l'inquilino dà l'allarme perché questa lite tra connazionali finisce in sangue il meteo dice godiamoci un po' di sole abbiamo visto che sarà un weekend all'insegna del bel tempo si parla di tariffe dell'acqua nelle pagine di peso del messaggero a parlare il presidente della provincia Tagliolini che è anche presidente dell'ATO le tariffe dell'acqua della provincia di peso sono le più alte di tutta Italia non è un gran primato e quindi ci vogliono investimenti territoriali sui servizi idrici le proposte dei sindaci a confronto del comitato ristretto dell'ATO e bisogna fare investimenti anche su nuovi pozzi si cercano le strade per abbassare queste tariffe il presidente della provincia dice la politica di contenimento deve essere attuata e anche la tutela ambientale vediamo la pagina di Fano del messaggero di che cosa parla di ospedale lo scontro si radicalizza dopo il rendering della discordia che ha riacceso gli animi se casomai ce ne fosse bisogno e in mezzo al guado ci rimane il PD il consigliere regionale Boris Rapa percorso condiviso per evitare il punto di non ritorno Rapa fa un po' da pompiere in questa situazione ma si allarga il fronte a favore di Chiaruccia ma il piano B non pare una soluzione definitiva vediamo poi che in basso si parla di comitato critico per la nuova viabilità nel mirino si parla dell'interquartieri e delle opere compensative per il casello A14 e il piano del traffico bene questa era l'ultima pagina che vi proponevo termina qui l'ultima rassegna stampa della settimana e oggi è sabato appunto ma Occhio ai giornali tornerà lunedì mattina alle 7.30 puntuali grazie per essere stati in nostra compagnia questa sera l'edizione flash di Occhio alla Notizia grazie e ancora auguri a tutti i papà buon fine settimana a tutti i papà